Siamo qui alla sede dell'ambasciata di Uzzupis presso il Mago del Caffè. L'occasione è data dalla venuta a Saronno del Ministro degli Esteri della Repubblica di Uzzupis, Thomas Cepaitis. L'occasione di questo incontro è per ufficializzare la nomina del dottor Piero Vellini, titolare della web tv pierodassaronno.ue, e nominarlo come videomaker ufficiale della Repubblica di Uzzupis. Passo la parola al Ministro. Ho il piacere di nominare il dottor Piero Vellini, filmmaker ufficiale della Repubblica di Uzzupis. Grazie, thank you. Buongiorno, io sono Miriam e a nome di tutto lo staff del Mago del Caffè volevo dire che siamo lieti di ospitare presso il nostro bar la sede dell'ambasciata della Repubblica di Uzzupis. Buongiorno. Buongiorno. Sono felice alla presenza di due profetti e due civili e dello spirito buono del santuario di Saronno. è nominato per la seconda volta il dottor Piero Giuseppe Vellini, filmmaker ufficiale di Uzzupis. Grazie, thank you. Buongiorno.